Amo la vita. La commissione nominata da questo tribunale ha terminato con attenta cura l'esame degli scritti di Bruno e la rilettura di tutti i verbali di interrogatorio. Col permesso di sua santità, chiedo che si dia lettura delle conclusioni a cui essa è giunta. Propongo che sia data la parola a Giordano Bruno, nel caso abbia da fare dichiarazioni di principio. Noi vogliamo la morte del peccato, non quella del peccatore. Abbiamo pertanto concluso di lasciar cadere numerose accuse e di riassumere tutte le altre in otto proposizioni che riteniamo senz'altro di natura eretica. Hai scritto contro il Papa e la Chiesa Cattolica. Hai messo in dubbio la verginità di Maria. Hai negato la transustanziazione della carne. Hai affermato che Cristo non era figlio di Dio ma soltanto un mago. Hai sostenuto l'esistenza di mondi innumerevoli ed eterni e che la terra gira attorno al sole. Hai detto di credere nella reincarnazione e non nell'inferno. Hai affermato che perfino i diavoli si salveranno. Hai detto che la magia è lecita e che anche gli apostoli e i profeti erano dei maghi. Queste sono le stesse proposizioni da te già abbiurate davanti all'inquisizione veneziana e sulle quali noi ora ti invitiamo a pronunciare una solenne e pubblica ritrattazione nella chiesa di Santa Maria della Minerva. Non è necessario che decidi subito. Ti sono concessi 40 giorni per riflettere. 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 Grazie a tutti. 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 It's not a Friday once again without him. As you know, for me, for the moment, still I don't, I wouldn't say, and I don't say, it's a Friday once again, for another, I don't know, however, few weeks, but it's impossible to say it's a Friday once again in general. Partly cloudy, mostly cloudy, sorry. But it's still right now 53 and 6 farin at 12 Celsius. This means that it isn't that they really, really cold, like in these days and this year, in fact, for the degrees, but less for the atmosphere, because for the atmosphere, it seems, instead, it seems a winter day. Even if it's not a Friday once again without Mr. Lynch, however, it's a Friday, and being a Friday, as you know, first of all, I shaved my bread with this. Fantastic electric gray, as you know, this is a Friday, and being a Friday afternoon, I think that temperature, at this point, is it easy to repeat? just before, 53 and 64 and 12 Celsius, but the really important thing with this atmosphere is that it's anticipated just before, absolutely we don't have this beautiful blue sky in golden sunshine, and if you see, yes, a good sky, as you see perhaps, but not repeat those beautiful blue skies, as I shine, sun, but also with many clouds in this beautiful sky, but not beautiful beautiful at all, good for the moment, so for me, bed well or well bed today, so said this, so, from the mythical window of the new gray curtain, I saw since November 1, 2022, and also these beautiful painted-away branches, and as I regard the window of its green roller shooter, not visible in this video, in fact, training shot, and finally, from my mythical keyboard, my EGX 6940, APG 625, and finally, I hope you all have a great breakfast, unfortunately, I already did it today, but, as we always say, I have a great breakfast, and finally, I hope you all have a great breakfast, unfortunately, I already did it today, but, as we always say, breakfast is one of the most beautiful things in life and the world, absolutely, I'll see you in the today's UFO plate video, if I not die, because as you know, it's a Friday, today's of the UFO plate is... ...